Definite le date di inizio e chiusura del prossimo campionato di Serie C, che vedrà di nuovo la turis del presidente Coro Antonio e di mister Caneo ai nastri di partenza. Il consiglio della Lega Pro ha stabilito che la prima giornata si disputerà il prossimo 29 agosto, mentre l'ultimo turno della stagione regolare si giocherà il 24 aprile 2022. Decise anche le date dei primi due turni di Coppa Italia. Il primo turno avrà luogo il 13-14 agosto, mentre il secondo turno sarà disputato a distanza di una settimana, il 21 agosto, ed entreranno in gioco le quattro squadre partecipanti alla Coppa Italia di Serie A. Il prossimo 6 luglio invece dovrebbero essere definiti nuovi regolamenti per i campionati Primavera 3 e Primavera 4. Durante il consiglio di Lega inoltre si è fatto il punto sulle regolari iscrizioni al campionato, che al momento sono 50, mentre una domanda di iscrizione, si parla della casertana, pare priva della necessaria fideiussione. Si apre ufficialmente quindi la nuova stagione della terza serie nazionale. La Turis si prepara quindi ad affrontare un campionato ancora più avvincente di quello appena concluso, che vede coinvolte piazze prestigiose, comprese quelle provenienti dalla Serie B e ritorni nei campionati professionistici di importanti squadre promosse dalla Serie D.